uomini soli grazie Pippo ragazzi per me stasera se avete bisogno chiamatemi sono a posto tu vai in garage un grandissimo regalo l'incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col topo barba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel va e vieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è da solo perché ha in testa stranitarli perché ha paura del sesso per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con nevrosi e gelosie perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore oppure fa l'amore ci sono uomini soli per la sete d'avventura perché han studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai svezzati per donne che li han rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità magari tu ci sei e problemi non ne hai ma quaggiù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo un uomo solo grazie stasera è davvero serata di grandi stelle Red Canzian grazie Red ancora un applauso a questi musicisti assolutamente sì Filmer al pianoforte e poi Edoardo Musumeci Edoardo Musumeci e la chitarra Cristiano Giardini al sax soprano bellissimo bellissimo suonare ci siamo conosciuti oggi è vero ti ricordo la magia della musica e la magia di questo posto grazie ancora allora anche per Red Canzian la nostra bella pigna portafortuna grazie a tutti